Ciao a tutti ragazzi, sono Enrico BS e benvenuti qui oggi sul mio canale Vi starete sicuramente chiedendo Ah ma cavolo, anche lui sa parlare Ebbene sì, anch'io ho una voce, anche una lingua E anch'io voglio dire la mia dal prossimo anno Ma non sono qui oggi per commentarvi la mia partita Ma bensì per ringraziarvi, per ringraziare tutti voi Per ringraziare tutti i miei iscritti e voi che state guardando questo filmato Ho fatto questo commentary semplicemente per ringraziarvi E per augurarvi un buon Natale ragazzi E un felice anno nuovo E anche per dirvi che dal prossimo anno Da gennaio, dall'anno che verrà Comincerò anche io a fare commentary Il vostro supporto, il vostro, magari qualche vostro consiglio Così per migliorarmi sempre più Che come saprete se mi seguite non ho mai fatto nessun commentary Perciò mi sto impegnando per portarvi qualcosa di nuovo E qualcosa anche di abbastanza bello Perciò ecco, spero che la partita in questione vi piaccia Un like se volete lasciarmelo E niente, noi ci vediamo dal prossimo anno E vi auguro ancora un buon Natale E un buon anno ragazzi Ciao a tutti da Enrico BS Arma scarica, un attimo Colpo fulminante alleato in attimo Mori del chien Uccisione confermata Non sopra il vantaggio Siamo passati Siamo passati in vantaggio R.C.X.D. nemico nella Z.O Approvisionamento Uccisione confermata Un cenchino a terra Un cecchino, a tarda! Drone d'attacco a te. Attento! Approvvice la mente. Uccisione confermata. Il salto a vitale. Uccisione confermata. Tua di alleati. Eliminato! Lockstar pronto. Uccisione confermata. Lockstar alleato. Mantenere la visuale del sessore. Raga vai, obbiamoci. Raga vai, obbiamoci. Tantin vera identificato solo attività. Unire la zappa. Un cuore di risultato. Un cuore di risultato. Unire la zappa. Unire la zappa. Tiene pronta a ingaggiare degli uccisioni. Unire il drone d'attacco alleati. Capizzing… Unire la leider. Uccisione confermata. Unire la zappa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.